Grazie a tutti Che si chiama Detroit Becomes Human Ovvero ragazzi Detroit, la città di Detroit Becomes Human deve essere riferito agli android che diventano umani Ovvero diventare umano, diventa umano La cosa del genere deve significare Comunque qua l'ho capito Parla ragazzi di una cosa che riguarda cyborg, android, quale cose là Che diciamo che io più o meno ho dato un'occhiatina a qualche immagine Giusto a qualche spruzzo del trailer Ma non me lo sono rovinato così possiamo fare la reaction video insieme E mi dà molto di una cosa tipo Terminator Una cosa del genere Solo che invece di succedere l'apocalisse Gli android vivevano già insieme agli umani E aiutano gli umani Solo che alcuni certe volte impazzescono Quindi ragazzi adesso andremo a spolparci questo trailer Faremo la reaction video E tireremo le nostre conclusioni Come ogni volta Grafica, modo di giocare, scelte, cose Cose che si possono fare Ok? Quindi ragazzi iniziamo Ragazzi siete pronti? Io sono pronto già Dai forza Forza Allora ragazzi iniziamo subito Peggy 18 Peggy 18 Solo su playstation E' in italiano questo ragazzi E' un android ragazzi E' un android Stava facendo il gioco con la moneta Guardate Ah un se... C'è in pratica un altro android E' impazzito E' robito una bambina Della sua famiglia Diciamo Questa è la mamma della bambina Che è presa in ostaggio dall'altro android cattivo Diciamo Questo invece è l'androide buono Direi il nostro Capitano Allen Il mio nome è Connor L'androide è inviato dalla Cyberline Si chiama Connor Ha già fatto fuori due dei miei uomini Oddio Ah questo è qui E' questo qui ragazzi Quindi ci pensa lui ragazzi Ci pensa il nostro androide Oh L'ha sparato Uscito in liquido blue Avete visto? Ciao Daniel Io sono Connor Ah Connor L'unica domanda è se vuoi togliere o no Un'altra vita innocente Sono io a decidere le regole Oh merda ragazzi La sta per buttare giù Guarda cosa hai fatto Ti hanno creato per servire gli umani Non per ucciderli E per cosa sono stato creato? Per fargli da schiavo Da giocattolo Sei una macchina e devi obbedire Ora getta la pistola e lascia andare l'ostaggio Ho passato la vita a prendere ordine Adesso tocca a me decidere Oh merda ragazzi Che succede? Il nostro personaggio corre Va verso di là Però cadono tutti e due Si botano tutti e due Quindi si ammazza lui E muore anche la bambina Oh merda ragazzi Quindi è come se non ce l'ha fatta no? Però attenzione Colpo di scena Sarebbe potuto andare diversamente Raccogli informazioni A lasciarlo A Sherlock Holmes Ragazzi A vedere tutte le cose in giro Ricorda un po' terminito Tutta sta cosa Fai fronte ai dilemmi Quindi può andare diversamente Guardate Le varie scene Le varie scelte che si possono fare Guardate Guardate attentamente Quindi possiamo Non puoi ammazzarmi Non sono vivo Bella sta battuta Via a quell'elicottero di andarsene Cioè guardate in quanti modi Può andare la stessa missione La prima Credo Quante scelte possiamo fare Decidi tu come finisce la storia Cioè ci può anche uccidere addirittura Cioè Può andare anche diversamente Oppure noi uccidiamo lui E cade la bambina giù Oppure salviamo la bambina E lui cade Oppure Cadiamo io Il mio personaggio E l'altro android E giù E la bambina si salva Oppure Oppure si fida di noi Lascia andare la bambina Addirittura Senza uccidere nessuno Solo che Una merda di Di cerchino Lo spara tutto E cade pure giù Lo danneggia di Parecchio E lo fa cadere giù No 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 Non cade giù Cioè muore e basta Mi hai mentito Mi hai mentito Cioè vedete In quanti modi può andare Guardate Guardate quante cazzo di sequenze E questo è il bello Dalle scelte Sembra tipo Until Dawn Il mio nome è Connor Questa È la nostra storia Bellissimo Questa cosa ragazzi Certo Potremmo scegliere Un personaggio migliore Non mi piace più di tanto Però Detroit Become Human Ah non mi ero scordato Detroit ragazzi Comunque Detroit Become Human Mamma mia ragazzi Era ovviamente Per PlayStation 4 Non è che può essere per Xbox Anche se a me Un titolo per Xbox Mi è piaciuto ragazzi Però non l'ho giocato Però ho visto il trailer Ovvero Non mi ricordo come cavolo Si chiamava quello Quello Con i poteri Tipo Di fermare il tempo Non mi ricordo come si chiama Comunque bellissimo C'è un attore Che ha fatto molti film Tipo dell'X-Man Che ha fatto l'uomo ghiaccio In X-Man C'era quel tizio lì Che era uno dei Era il personaggio principale Poi c'erano Delle altre attori famose Anche che facevano Delle personaggi principali Però Con il titolo Solo Xbox One Credo E niente ragazzi Concentriamoci Su quello che abbiamo visto Appunto Si parla in questo Gioco di androide Noi impersoniamo Un android Che deve in pratica Fare delle scelte Per salvare delle persone Ci chiama Una squadra speciale Almeno per la prima missione Possiamo o scegliere Di farla a modo nostro Oppure raccogliere indizi Prendere delle prove Risolvere i problemi Cose Risolvere i dilemma E cose varie E cercare di fare la missione In un altro modo E vedere come va a finire No? Quindi noi Evidentemente ragazzi Potremmo fare tante Diverse scelte Però faremo Quello che più mi aggrada E quello che più piace a me Se faremo un giorno la serie E andremo avanti così Faremo la serie ragazzi Magari anche su quello Quindi io vorrei fare la serie Anche su Good of War Vorrei fare la serie su questo E ci sono altri giochi Che abbiamo visto Resident Evil ragazzi Che altro Watch Dogs 2 assolutamente Spider-Man Quei due giochi Ragazzi che abbiamo visto Injustice 2 Li vorrei fare tutti E il problema è che Non so se c'è abbastanza tempo Per fare tutto E qual è il problema? E niente ragazzi A me Questo trailer è piaciuto Non l'avevo visto tutto Quella prima volta Quello che l'ho visto Però Mi è piaciuto Mi è piaciuto davvero Il gioco sembra È una novità assoluta Ve l'ho detto Non hanno mai trattato Di queste cose Di androidi Di queste cose qui E' fatto bene La grafica Che avete visto com'era Possiamo fare le scelte Come in Until Dawn E quindi E' un gioco Secondo me A quanto pare Secondo me Bellissimo Cioè Potrebbe piacermi Quindi potremmo fare una serie Qui ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo video Di questo gioco Del trailer Di quello che volete Ragazzi Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Se volete quindi ragazzi Lasciate un like Quando vi dite Iscrivetevi Se non siete iscritti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima